Ucchielli a Rossini TV, il sindaco riparte dopo il malore. Fiorenzuola, mobilitazione contro la maxi-antenna. Pergola, anziano, cerca di accoltellarsi, salvato. Labirinto apre il polo di comunicazione aumentativa alternata. Miralfiori in festa fra ambiente e protezione civile. Buonasera a tutti voi telespettatrici e telespettatori di Rossini TV. Ben ritrovati sul canale 80, ben ritrovati a Rossini News. Il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 4 di maggio apriamo con un'intervista, con un'intervista ad un ospite che è venuto quest'oggi a trovarci nei nostri studi e parliamo di Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, reduce da un sospetto ictus e da una delicatissima convalescenza che proprio in questi giorni è tornato operativo nel comune di Vallefoglia e ha raccontato queste delicate settimane ai nostri microfoni. Palmiro Ucchielli oggi ospite negli studi di Rossini TV dopo tre giorni che è tornato operativo in municipio dopo questo brutto periodo di convalescenza. Le chiedo innanzitutto come sta e com'è questo ritorno al lavoro? Ma intanto grazie di questa prima opportunità dopo una decina di giorni, otto giorni di ospedale e poi una ripresa insomma abbastanza graduale e sto abbastanza bene come si vede, non ho assolutamente nessun impedimento, quindi diciamo che sono stato mezzo miracolato. Devo ringraziare la struttura della medicina dell'ospedale di Fano. È stata una bella botta, però insomma io sono un combattente, cercherò di far tesoro di questa pausa forzata perché nella vita ho sempre camminato a velocità supersonica mettendo al centro gli interessi della comunità, dei cittadini, i problemi economici, sociali, la necessità di dare alla città di Vallefoglia tutte le strutture fondamentali come un nuovo depuratore, nuovo comune, nuovo teatro. Cioè in verità abbiamo fatto in questi anni, quasi nove anni, oramai Vallefoglia diciamo quasi tutto nuovo e questo ha richiesto un impegno davvero straordinario, ma per me la velocità supersonica era una costante di tutti questi anni dei ruoli che ho avuto, sia di Presidente della provincia che del ruolo parlamentare, eccetera. Però adesso cercherò di darmi un po' una calmata, insomma, nel senso che bisogna far tesoro anche di fenomeni che sono quelli della tutela della salute che vanno prima di tutto salvaguardati, anche perché, come dico sempre scherzando, se uno non sta bene non può nemmeno servire nel migliore dei modi gli altri. Quindi adesso ho cercato di rivedere un po' le questioni fondamentali. Devo ringraziare, non so, infinitamente tante, tantissime persone che mi hanno fatto, devo dire, molto commuovere, perché, insomma, la vicinanza è stata tanta e tale che veramente non so nemmeno se ho meritato tutta questa, diciamo, solidarietà. Questo abbassamento di velocità supersonica, come lo definisce lei, si deve conciliare con il rush finale di questo ultimo anno di mandato. Le chiedo come si immagina dal 2024 in poi se questo episodio ha cambiato anche la percezione di quello che sarà il suo futuro. Intanto arriviamo al 2024 e devo solo inaugurare tutte le cose che abbiamo fatto. Poi si vedrà se serve, non lo so, cosa farò da grande, insomma, sono abbastanza grandino, ciò ho avuto sempre una voglia, una passione straordinaria e devo dire che penso di tornare alla normalità delle persone normali, perché io ho fatto una vita quella mattina, quando mi è successo tutto fatto, alle 6.25 ero in comune. Diciamo che non è normale dedicare 14-15 ore al giorno, insomma, tutti questi ragazzi che sono stati sindaci hanno dedicato una parte importante, ma non con quel ritmo lì, quindi riflessione e poi si vedrà quel che succederà nel 2024. Nel 2024 sono elezioni europee, sono elezioni amministrative, adesso si vota ad Ancona, quindi gli scenari possono cambiare di giorno in giorno e poi la vita politica, uno è al servizio se serve, se serve, se non serve, usa il po', lo seguo della vita, finalmente, perché io ho dato tanto, credo di aver diritto anche di godermi un po' la vita, semmai. Ed ora ci spostiamo sul parco San Bartolo, dove fa discutere una installazione di una maxi antenna di telefonia considerata deturpante per il panorama di Fiorenzuola di Focara. Il servizio. Come uno scarabocchio a macchiare un'opera d'arte. È già battaglia contro la maxi antenna 5G installata da Iliad nel borgo di Fiorenzuola di Focara. Una torre di telefonia di 30 metri che da un paio di giorni svetta sulla panoramica alle spalle della chiesa del paese è retta ad un paio di metri dalle mura del locale cimitero. Un pugno in un occhio, quell'occhio rivolto sul paesaggio da Cartolina del San Bartolo e di quella Fiorenzuola fresca di inserimento nella cerchia dei borghi più belli d'Italia. Il comune di Pesaro ha ribadito la regolarità dell'iter procedurale di installazione avviato fin dal 2021 ed esposto in incontri informativi con il quartiere. Residenti, consiglio di quartiere e consiglio del parco San Bartolo sono però insorti davanti ad una installazione che si era immaginata ben diversa e sulla quale si era più volte esternata contrarietà. Io l'ho saputo domenica 24 aprile in quest'area qui del bar da un mio amico a cui non ho dato tanto peso. Poi ho visto ergere questo palo, questa semovente che ergeva questo palo e allora siamo partiti e siamo intervenuti perché non è possibile che in un parco nascono queste torri che sono uno scempio proprio, sia per i turisti anche che vengono qua, tantissimi turisti sportivi e quant'altro. Residenti che tentano il possibile per portare Ilia De Comune ad una collocazione su un sito meno impattante, tant'è che al bar Valbruna è già partita una raccolta firme in tal senso. Siamo partiti da due giorni e già abbiamo raccolto più di 60 firme. Si chiede di trovare un altro sito? Sì, perché anzi in teoria se la tirassero via è meglio del tutto, però se cambiassero il sito già va bene. È bruttissima, rovina l'immagine, rovina la salute, rovina tutto. Vogliamo chiarimenti, vogliamo sapere da chi è partita questa cosa, se ci sono le concessioni giuste per poter impiantare un pallo del genere in un parco naturale e a dispetto della natura e degli abitanti che lo abitano, ecco, è proprio uno scempio. Forte anche la contrarietà e la preoccupazione di Lega Ambiente. Purtroppo noi sappiamo che le società che gestiscono non badano troppo alle questioni ambientali, no? Fanno un loro calcolo evidentemente che è di tipo economico e di servizio e quindi chiedono ai comuni di posizionare queste antenne laddove loro credono che sia meglio posizionare. L'amministrazione comunale non è che si può sottrarle perché c'è una legge nazionale che impone che queste antenne vengano posizionate, però certamente l'amministrazione comunale potrebbe intanto informare, parlare con i cittadini per far capire l'importanza o meno di queste cose. E poi dovrebbe calibrare meglio anche il sito in cui andare a mettere un'antenna di quel genere perché 30 metri sul mare, no? Che si vede st'antenna da tutta Fionizzuola di Focara, insomma voglio dire c'era sicuramente un sito diverso magari nelle vicinanze, sempre dell'amministrazione comunale, il territorio, il terreno. Io penso che questo doveva essere fatto, però insomma ci troviamo così, noi siamo fortemente preoccupati per questa questione. Da Fiorenzoola di Focara ad un altro caso che sta animando un altro quartiere della città di Pesaro è quello che riguarda Villa San Martino dove ieri sera si è svolto un partecipato consiglio di quartiere sul tema dell'allargamento dell'area di sosta in via Togliatti conseguente alla realizzazione della cittadella del basket e al timore che questa possa portare ad una vociferata costruzione di un parcheggio sul parco scolastico dell'Istituto Don Bosco compreso fra via Togliatti e via Leoncavallo. Il Consiglio di quartiere ha ribadito la sua contrarietà a questa eventualità invocando un confronto con l'amministrazione sui prossimi passi che si intendono intraprendere. Passiamo alla cronaca e ci spostiamo nell'area interna e quelle di Pergola dove un presunto suicidio è stato sventato questa mattina in Piazza Fulvi attorno all'alba alle 6 di mattina quando un 76enne si è inferto una coltellata alla gola e si è accasciato a terra sanguinante in un clamoroso gesto autolesionistico. Due operatori ecologici e un barista della piazza hanno però immediatamente chiamato i soccorsi ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito d'urgenza l'anziano all'ospedale Torrette di Ancona. Ed ora cambiamo argomento. Offrire ai minori con complessi bisogni comunicativi e alle famiglie del territorio la possibilità di avvalersi della comunicazione aumentativa alternata. Si tratta di un nuovo progetto educativo che sarà portato avanti dalla cooperativa sociale Labirinto. Alla nostra cooperativa piace storicamente sempre più cercare di dare risposte ai bisogni emergenti che intercettiamo lavorando sul nostro territorio attraverso progetti innovativi come questo. In questo caso in particolare la collaborazione con l'associazione Genia di cui comunque Labirinto è socio fondatore e ha portato a portare a Pesaro l'apertura di questo importante polo per la comunicazione aumentativa alternativa che è una modalità innovativa ed alternativa per dare a ragazzi con alcune disabilità un miglioramento nella loro capacità di comunicare. Comunicazione aumentativa alternativa, quali sono i percorsi che andrete ad applicare e gli strumenti che utilizzerete? Allora innanzitutto tutto partirà dal bisogno personale e specifico del bambino quindi verrà fatta una valutazione sul bambino e in base alla necessità che si riscontrerà si partirà con un percorso personalizzato. Quindi definire in maniera specifica un unico strumento è quasi impossibile perché tutto verrà personalizzato sul singolo bambino. Noi ci occuperemo della fascia evolutiva quindi fino ai 18 anni per il momento. La tecnologia è molto di supporto e di aiuto perché inizialmente gli strumenti erano solo strumenti cartacei quindi delle tabelle dove venivano inseriti dei simboli in base al sistema simbolico scelto per il bambino ma solo cartacee. La tecnologia ci aiuta perché ora ci sono molti più programmi rispetto a 10-20 anni fa e quindi vengono scelti dei programmi e possono essere inseriti anche all'interno di tablet. È un servizio che si svilupperà in che area della città? Avrà una sede fisica perché è collocato presso la sede di Labirinti Magici già il nostro polioambulatorio specialistico per l'età evolutiva in via degli Abeti a Pesaro ma naturalmente gli appuntamenti si possono prendere da parte e al momento di tutti i cittadini residenti nei comuni dell'ambito sociale di Pesaro. È una giornata molto importante, quella che festeggiamo oggi ufficialmente con la nascita del Polo perché sono realtà che ci sono nelle grandi città, oggi ci sono anche da noi. È un percorso che nasce da lontano dalla grinta, dalla volontà di associazioni, penso a Genia o a Labirinto che hanno trovato sul nostro territorio la parte amministrativa e pubblica sensibile e insieme siamo riusciti a chiudere questo percorso che porta alla nascita del Polo e adesso ci aspetta la sfida di quello che sarà lo sviluppo delle progettualità che il Polo ci porterà. Il percorso di presa in carico di un ragazzo che si affaccia a questa metodologia educativa è piuttosto impegnativo, richiede molte ore di lavoro di professioniste specializzate e questo fa sì che ci siano dei corsi significativi che in questa prima fase sono sostenuti da diverse aziende sostenitrici, però è chiaro che non si può confidare sulla continuità di questa tipologia di intervento e sarebbe opportuno che le amministrazioni, come ha già avvenuto in Lombardia l'amministrazione regionale facesse anche suo, almeno in parte, questo progetto e decidesse di sostenerlo in maniera continuativa. Ed ora vi segnaliamo due eventi che caratterizzeranno il Parco Miralfiore di Pesaro nei prossimi giorni. Il primo comincerà domenica e durerà una settimana, la settimana dedicata alle attività della protezione civile. Nasce per riconoscere il grande lavoro che in questi ultimi due o tre anni i volontari di protezione civile hanno fatto per la nostra città e non solo, perché sono stati attivi non solo a Pesaro ma anche nei comuni intorno nei quali sono stati chiamati per prestare il loro aiuto e dare la loro collaborazione. È un gruppo di 150 persone che prestano il loro servizio gratuitamente per sottolineare gratuitamente perché dedicano tempo, energia e tolgono spazio a quelle che sono la loro passione, a loro famiglie per dare una mano a chi ha bisogno. Purtroppo nell'ultimo periodo ci sono state situazioni che hanno richiesto interventi costanti da parte dei volontari di protezione civile e dedicargli una settimana ci sembrava il giusto riconoscimento. Saremo al Parco Miralfiori dal domenica 7 a domenica 14, ci saranno momenti di dibattito, di confronto, le scuole, una cerimonia inaugurale, poi chiuderemo con il pranzo per tutti i volontari. Deve essere l'educazione, noi quando andiamo nelle scuole vediamo questa mancanza o non conoscenza perché ci vedono solo quando siamo in intervento, invece vogliamo far capire cosa siamo prima di arrivare all'intervento, come si costruisce la protezione civile, cosa deve fare il volontario per la protezione civile per arrivare a dare quel contributo che poi diamo alla gente quanto ha bisogno. In questa settimana ci sarà modo, oltre a far vedere il lavoro che è stato fatto, anche di presentarsi alla città e magari reclutare nuovi soggetti, soprattutto giovani, perché il segnale importante è quello di riuscire ad avere da parte dei giovani la sensibilità e la volontà di dare una mano a chi ha bisogno. Si svolgerà al mattino con le scuole, fino a mezzogiorno, il poveriggio con la popolazione che verrà, anche le scuole che tornano, non è nessun problema, e faremo anche un paio di convegne la sera dopo cena, però quello dobbiamo buttare giù, non lo sappiamo esattamente, o anche fra di noi perché dobbiamo fare anche un po' di formazione, approfittiamo dal momento che siamo lì. Altro evento domenicale al Parco Miralfiore è Miraviglia, mercanti in gioco, che torna in questo 7 di maggio con una importante tematica ambientale a supporto. Terza edizione di Miraviglia al Parco Miralfiore, come abbiamo visto nei mesi sui passati, ha avuto successo, quindi questa volta ci sarà Lega Ambiente, il Comune di Pesaro ha voluto contribuire ad aiutare a questo evento, oltre ai bambini che potranno comunque giocare e socializzare grazie ai mercanti in gioco, ci sarà questa iniziativa di Lega Ambiente che si chiama Salviamo la Regina. Quindi oltre a unire il divertimento, andiamo anche ad unire il fatto di essere attenti all'ambiente. Le api e gli insetti impollinatori sono fondamentali perché con il loro lavoro, e ne fanno tanto, anche se sono piccolissimi come insetti, danno a noi la possibilità di avere il 75% delle verdure e della frutta che mangiamo. Se non ci fossero non avremmo tutto questo, quindi è evidente che vivremo molto molto peggio, o forse avremo anche delle difficoltà. Domenica parleremo appunto di questi temi con i ragazzi, con i cittadini che verranno, poi ci saranno gli apicoltori con i loro prodotti, con le loro api, con i loro strumenti, che faranno vedere concretamente ai ragazzi come loro lavorano, che cosa fanno, quali sono le modalità. Quindi è di nuovo istruzione, informazione, ma anche divertimento, perché vogliamo trascorrere una giornata con i giovani e i meno giovani, insomma, con i cittadini tutti, in un luogo bellissimo che è il Parco, in serenità e appunto in gioco. All'evento ci sarà anche la protezione civile, è una settimana dedicata, quindi sarà un bellissimo evento e devo dire che in questo weekend il Comune di Pesaro offre alla città e anche chiaramente i primi turisti la possibilità di venire al centro storico perché ci sarà il mercatino francese in Baia Flaminia, ci sarà il party dei ragazzi con tutta l'animazione, quindi vogliamo in questo modo dare un segnale forte di aiuto alle attività commerciali che si trovano nei vari luoghi e quindi vari eventi suddivisi nella città, tra giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi buon weekend a tutti e speriamo che, insomma, oltre al divertimento ci sia relax per le famiglie e il divertimento per i bambini. Dal Parco Miralfiore a Baia Flaminia, dove si terrà domenica 7 maggio, Kids Party. L'appuntamento promosso dal Comune e inizialmente organizzato per il primo maggio è stato spostato appunto a questa domenica per tornare a riempire di giochi, laboratori e colori la mattina dalle 10 alle 12 a Campo di Marte e il pomeriggio dalle 17 alle 19 in Piazza Europa. Sono previsti giochi di movimento, aree truccabimbi, spettacoli di bolle giganti di sapone, baby dance e la simpatia delle mascotte dalle sembianze dei topolini più amati dai piccoli. E invece domani, venerdì 5 maggio, a partire dalle 9 nella sala dell'auditorium di Palazzo Montagnantaldi, si terrà al congresso le cardiomiopatie e la rete marchigiana. Il futuro è presente. Il convegno organizzato dall'Associazione dei Medici Cardiologi Ospedalieri delle Marche è presieduto dal dottor Giovanni Tarsi, direttore dell'Unità Operativa Complessa Cardiologica dell'ospedale di Pesaro. Interverranno nell'occasione i massimi esperti di cardiomiopatie che presenteranno gli aggiornamenti in termini diagnostici e terapeutici di amiloidosi cardiaca, cardiomiopatia ipertrofica e altre malattie del muscolo cardiaco. Cambiamo argomento e ora parliamo di teatro con un nuovo lavoro dalle tinte forti, ovvero Manfred di Maria Alterno e Ricciar Pareschi, che giunge in scena venerdì 5 maggio alla chiesa dell'Annunziata di Pesaro per Teatro Oltre, festival ideato e realizzato da Amat. Un'altra segna Amat è quella di teatri d'autore che invece fa tappa venerdì 5 maggio al teatro comunale di Monbaroccio con lo spettacolo Un pezzo meraviglioso di creato, breve viaggio sentimentale in terra marchigiana con Lucia Ferrati e Monica Micheli All'Arpa. Sempre teatri d'autore, sabato 6 maggio al Teatro Apollo di Mondavio porteranno lo spettacolo Cattivi bambini di e con Nicolas Ciufferri. Parliamo anche della stagione di teatro della compagnia La Piccola Ribalta che prosegue con due fuori programma. Il primo appuntamento è per sabato 6 maggio alle 21 e domenica 7 maggio alle 17 sempre nella sede teatrale di Via dell'Acquedotto dove sarà di scena il dialetto con Imbroi, Papò, Le Confette, Commedia brillante in vernacolo scritta e diretta da Franco Ferri. Concludiamo il nostro telegiornale occupandoci di un documentario che più volte vi abbiamo proposto su Rossini TV, si chiama Il panino di Gesù, una produzione realizzata e diretta da Giorgio Ricci che sarà al centro di un evento dedicato sabato sera al Teatro Cinemastra di Pesaro. L'appuntamento è per sabato 6 maggio alle ore 21 al Cinemastra. Proietteremo quindi Il panino di Gesù che è la storia di Sara Matteucci raccontata da chi l'ha vissuta, quindi in prima persona dai genitori e da tutti quelli che le siano stati intorno e ritengono di aver avuto dei benefici da Sara. Sara è una bambina che nasce a Padiglione di Tavuglia e a tre anni e mezzo si ammala di un male incurabile e a sette anni e mezzo, sì a sette anni e mezzo, finisce la sua esistenza. Sara nel brevissimo periodo della sua vita si è caratterizzata per l'amore che ha profuso intorno a sé, prima di tutto fra i genitori e per l'amore che ha profuso in direzione di Gesù dal quale non vedeva l'ora di andare, scusandosi anche con la madre perché dice mamma tu ti offendi se io preferisco andare dalla Madonnina e di non stare con te, non è che non ti voglio bene, tutti i racconti sono caratterizzati e tutte le testimonianze sono caratterizzate da questo amore per la bambina. Perché è il panino di Gesù? Perché Sara durante tutta la sua brevissima esistenza non vedeva l'ora di fare la comunione che lei chiamava il panino di Gesù. la guardia della Carpegna Prosciutto Basket Abdul Rachman e l'opinionista Alfredo Carboni. L'appuntamento è alle 21.20, appuntamento sempre accompagnato dalle interazioni in diretta di voi telespettatori che potete commentare, porre domande agli ospiti e altre curiosità al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. E dunque non perdetevi questa serata su Rossini TV, si conclude invece qui Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.